Wuh! Everybody in the world likes chocolate! Mmm, we love it! Oh, it makes you happy! Yeah, it gets you sexy! It makes you bad! But we don't care about that! Come on! È il cioccolato bianco o è il cioccolato fondente? Tutto, basta che è il cioccolato! Come on! Io sono un artigiano e sono fiero di essere un artigiano, quindi trasformo il cioccolato d'origine, di pura origine, e lo trasformo in cioccolatini qualsiasi forma lui sia. Cosa ne pensa di Piazza della Palma senza auto? Credo che sia un'ottima idea! Senza auto, bellissima! Perfetta senza auto! Sì! È molto bella! È molto bella senza auto! È meravigliosa! Ok! Che ne pensi di Piazza della Palma senza auto? Assolutamente favorevole! Favorevole! Bisogna incrementare l'uso della bicicletta! Piazza della Palma, parcheggio Isola Pedonale! Io credo che siamo in Isola Pedonale, è una delle piazze più belle del centro e non è assolutamente valorizzata! Come la vedi questa ipotesi dell'ASCOM di restituire questo spazio ai grossetani sempre? Beh, credo che sia veramente una cosa azzeccata, sia per la dislocazione che la piazza offre perché è messa in un posto splendido nel centro della città. Ma che hanno ammazzato il centro storico! Una domanda! Secondo lei nel centro storico non si può andare in bicicletta? Sì! Con un poco di zucchero la pillola va giù, la pillola va giù, la pillola va giù, la pillola va giù, basta un poco di zucchero e la pillola va giù, tutto brillerà di più! Cioccolando, che si è appena conclusa, è un altro tassello del vostro nutrito programma di eventi per la città di Brosteto. Vi vuole dire quali sono gli intenti di largo respiro delle vostre iniziative? Ogni evento va vissuto e visto come, come diceva lei, un tassello di un progetto complessivo. Il progetto complessivo è quello di prendere il centro di Grosseto frequentato dai grossetani e dai turisti. Per fare questo occorre creare un'immagine del centro di Grosseto che sia vitale e che sia attrattiva. Per fare questo occorre creare un'immagine del vostro nutrico. Gli eventi che abbiamo posto in essere, come Asco, dalle notti bianche ai giovedì del mese di luglio, vanno in questa direzione. Cioccolando è l'ultimo tassello. Abbiamo pensato di collocarlo in una piazza importante, ma un po' dimenticata di Grosseto, come Piazza della Palma, proprio per dare ai grossetani, no, l'idea visiva di una piazza viva. Stiamo facendo elaborare da un noto architetto grossetano un progetto di riqualificazione urbana della piazza che prevede la totale pedonalizzazione, l'abbellimento con redi urbani sicuramente più attrattivi di quelli che ci sono, per dare anche ai locali che esistono sulla piazza la possibilità di sistemare tavolini, gazebo. Questa volontà di recupero, come l'avete raccolta? Ascoltando la gente, lei stessa mi testimoniava che c'erano persone che, diciamo, peccato che sia un parcheggio, in effetti è una bella piazza. Noi abbiamo ascoltato i cittadini, abbiamo ascoltato i commercianti e guardando anche architettonicamente la piazza abbiamo notato che è una sorta di salotto potenziale. Se il comune acconsente e quindi su questo progetto ci dà la propria collaborazione, fattiva e indispensabile perché da soli non ci riusciremo, Piazza della Palma potrebbe diventare uno dei fulcri delle attività vitali di Grosset. Facciamo un soldato su Facebook? Perché no? Grazie a tutti!